Voci.fm News, ultimissime dal mondo della voce. Bentrovati all'ascolto da Angelo Costanzo. Disney Italia ha annunciato le voci italiane di Wish, il nuovo film di Natale della company che ha appena celebrato il centesimo compleanno. La cantautrice Gaia è la voce della protagonista Asha. Amadeus interpreta la capretta di Asha Valentino. L'attore Michele Riendino doppia nei dialoghi il re magnifico. Non solo talent ma anche molti professionisti tra i doppiatori italiani di Wish, come Marco Manca che interpreta le canzoni di Re Magnifico, Ilaria De Rosa, Carlo Valli, Beatrice Caggiula, Vittoria Bartolomei, Alex Polidori, Silvia Alfonsetti, Federico Campaiola, Lorenzo Dagata, Gabriele Patriarca e Monica Volpe. Arrivano sul Prime Video i nuovi episodi della serie Bosch Legacy. La voce italiana di Eri Bosch, interpretato da Titus Welver e di Francesco Prando. Viva Rai 2 di Fiorello ha preso il via nella versione anteprima su Instagram e Rai Play e tornerà in onda su Rai 2 da lunedì 6 novembre alle 7 del mattino. Novità di quest'anno, lo show verrà trasmesso in differita anche su Rai Radio 2 ogni pomeriggio alle 14. Il 25 ottobre scadono le iscrizioni ai Music Film Awards. La fase finale del concorso si terrà nell'ambito del Music Film Festival che torna a Ferrara dal 29 novembre al 2 dicembre. Le categorie sono Doppiaggio e Canto. È tutto, buon ascolto su Voci.fm Radio. Voci.fm Radio. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.